Buongiorno e benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 7 ottobre. Mentre i nostri chiacchierano a Lussemburgo, in Lussemburgo dovranno decidere che cosa fare dell'accordo famoso di Malta sui migranti, quello che è successo a Lampedusa questa notte tra le 2 e le 4, è che c'è stato un naufragio di un barchino. I giornali oggi ovviamente non ne parlano perché finiscono prima in redazione di essere della tragedia che è venuta questa notte e ci sarebbero una decina di morti a Lampedusa. Un dramma umano, proprio a pochi giorni dalla commemorazione di un analogo dramma umano di anni fa, sempre a Lampedusa, con l'idea che se li accogliamo tutti, ovviamente con i porti aperti non ci sono più rischi. Purtroppo i rischi ci sono, soprattutto in questo momento. Non voglio entrare nel merito di quello che si può pensare rispetto a questa ennesima tragedia del mare, bisogna soltanto rispettare le vittime. Ne parleremo sicuramente questa sera a Quarta Repubblica, come sempre l'immigrazione sarà uno dei temi trattati dalla nostra trasmissione, in maniera non convenzionale. Comunque tutta questa roba oggi sui giornali non ce l'avete e la vedrete più tardi sui siti. Ovviamente noi avevamo una persona lì a Lampedusa e quindi sappiamo bene con Lodovica Bolian tutto quello che è successo. Nel frattempo il governo traballa, nel senso che poi non traballa perché si mettono d'accordo su tutto, ma sia il Corriere sia gli altri giornali dicono che le liti all'interno del governo sono numerose, per due motivi. Il primo motivo è Renzi, la sua Italia viva, che rende morto il governo. Più è viva Italia e più l'Italia viva di Renzi e più è morto sembrerebbe questo governo. Perché sta però Renzi chiedendo una cosa molto chiara a Conte, perché questa vicenda di cui non ci siamo mai occupati su questa zuppa della spy story è molto semplice poi alla fine dei conti. Il ministro della giustizia americano, che si chiama Barr, lasciate perdere poi tutte le link di università, gli addentellati, ma la cosa semplice, che sia chiara, che voi sappiate, è che il ministro della giustizia americano chiede a Conte posso vedermi con il capo dei vostri servizi segreti, peraltro vecchio amico di Conte, e il ministro, il presidente del Consiglio italiano dice sì, guarda, lo vedete. In realtà poi questo ministro Barr della giustizia americana sta cercando di costruire una controinformazione rispetto a quella dell'FBI che vorrebbe, diciamo, cacciare dalla casa bianca Trump. Ma questo è relativamente importante. La cosa importante è che Conte permette, come dice bene oggi mi sembra Carlo Bonini sulla Corriere delle Sera, ha messo a disposizione di un altro Stato per quanto alleato parte dei nostri servizi segreti. Queste cose se non altro bisogna spiegarle. Cioè non può Conte fischiettare, far finta di nulla, oggi sono le foto che lui fa una rianimazione di un manichino, il manichino è lui, e bisogna forse non rianimarlo, ma dirgli Conte magari vai a dire tu che è la delega dei servizi segreti che cazzo è successo nel far incontrare un capo nostro dei servizi segreti con un ministro della giustizia di un altro paese. È simple as that, direbbe Trump o direbbero Barr. Invece a questa specifica domanda di Renzi, legittima al Presidente del Consiglio, poi lasciate perdere che Renzi lo fa per romperdi le balle a questo governo, ma la domanda è legittima, la dovrebbe fare ogni italiano, sapete Di Maio, Giggino, cosa risponde? No, perché questo è ormai il clima istituzionale di questo paese. Sul fatto quotidiano, sul fatto quotidiano che ne avrebbe creato una vicenda, servizi segreti, se fosse stato Renzi aver fatto una cosa di questo tipo, chissà che cosa avrebbe costruito il fatto quotidiano, beh, Di Maio al fatto dice, ve lo leggo, l'attacco di Renzi non merita risposta, mi fido di Giuseppe. Ma che cazzo di risposta è? Mi fido di Giuseppe. Ma che risposta è? Ma è un criterio della politica, mi fido di Giuseppe. Io non mi fido di Giuseppe e non mi fido manco di Di Maio. Voglio sapere, perché i nostri servizi segreti hanno avuto un accordo e hanno chiacchierato con il ministro della giustizia americano. Poi può anche andare bene. Cioè, ci sta, va benissimo. Io sono favorevolissimo, figuratevi un po' voi, mica stiamo parlando del ministro della giustizia cinese. Ma magari spiegarla, questa cosa sarebbe non male, invece di fare l'animazione, la rianimazione sul manichino, le foto del presidente del Consiglio Conte che fa la rianimazione sul manichino, sto manichino. Il Movimento 5 Stelle poi si arrabbia sul fatto che improvvisamente Conte, che è espressione del Movimento 5 Stelle, dice ok, è al piano degli F-35 americani, che ovviamente, obiettivamente, sono contro tutte le idee del Movimento 5 Stelle. Questi eri, il Movimento 5 Stelle ha rotto le balle, danni, oggi il Corriere della Sera ricorda le battaglie di Di Battista, ma degli altri, l'abbate oggi mi ha fatto ridere quando dice Di Battista, tutto quello che diceva riguarda questa roba qua. Ma comunque, adesso gli F-35 si faranno in Italia, se non che, quando questa roba qui non piace a Di Maio, che su quello, sugli F-35 è borbotta, Conte dice li rinegozieremo. Se fossimo, non dico un paese serio, perché noi non siamo un paese serio, ma se noi fossimo nella condizione di 4-5 mesi fa, quella condizione per cui eravamo snob nei confronti del Papete, nei confronti di Salvini, nei confronti della cialtroneria di questo governo, ma come lo considerate questo? Ci abbiamo Di Maio che mi dice, mi fido De Conte perché non parla di quello che fanno i servizi segreti, quell'altro che dice facciamo gli F-35, poi gli danno toc toc una bottezza, vi ricordate quella cosa che c'era il cavo che davano, che era Ben Hill? Conte gli danno una bacchettata sulla testa e dice, li rinegozieremo. Ma questo non è un governo, è una cialtroneria. Nel frattempo Repubblica oggi parla di un'altra cosa, molto seria, su questa non bisogna scherzare, e cioè il Family Act. Cosa sarebbe, a parte le cavolate dell'inglese? Sostituirebbe gli 80 euro, che oggi vanno ai lavoratori dipendenti fino a un certo livello di reddito, li tolgono gli 80 euro, che era la cosetta di Renzi. Quello, insieme alle detrazioni, che già vengono riconosciuti a tutti gli italiani per i figli, creerebbero la possibilità dello Stato, secondo risorse che già ci sono, quindi non da inventare, tolgo gli 80 euro, tolgo tutte le detrazioni, tutte le agevolazioni fiscali, metto tutto insieme queste agevolazioni per la famiglia, ne esce un assegno di 240 euro al mese per ogni famiglia che abbia un figlio sotto ai 18 anni. Sopra i 18 anni, fino ai 26, e questo magari ci sarebbe un po' da discutere, l'assegno scende a 90 euro, cioè sopra i 18 anni forse potremmo smetterla di fare l'assistenza ai bambini, ma comunque perché tali non sono più. Ma l'idea di incentivare la natalità con un pacchetto organico e unico per la famiglia non è in assoluto astratta, soprattutto se a costo zero. Detto questo, è una manovra, come ricorda Repubblica, fatta da Zingaretti e Di Maio contro, scusatemi, dal PD e del Movimento 5 Stelle contro Renzi. E andiamo bene. Questioncella di poco conto, Brusca dovrebbe uscire dal carcere, perché la Procura Generale Antimafia, la DDA, ha chiesto la sua possibile scarcerazione e fine pena in casa, agli arresti domiciliari. Qualcuno di voi si può scandalizzare, ma come, Brusca? L'uomo di Capaci? L'uomo che ha fatto più di 100 omicidi? L'uomo che ha sciolto un bambino di 13 anni nell'acido? Se ne va gli arresti domiciliari a casa? Allora, tutti quelli che gli viene questo istinto nei confronti di Brusca, gli segnalano una cosa che forse non gli è chiara, che l'uomo che ha ucciso a Capaci, Falcone, la Scorta, la moglie, già oggi non ha l'ergastolo, perché essendo un collaboratore di giustizia, si è già preso 80 permessi premio. Già oggi, il signor Brusca sa che sconterà in carcere altri solo due anni, perché si è beccato 30 anni, con la buona contotta diventano 25 e fra due anni, dopo 23 anni, uscirà dal carcere. Allora, perfetto. Quindi, mettiamo le cose in chiaro, se questo domani va agli arresti domiciliari, vi può rodere, come rode a me, ma forse vi deve rodere di più che questo macellaio, perché è un macellaio, dopo 100 omicidi, dopo aver ucciso Falcone, stiamo parlando di Falcone, dopo 25 anni, ah, 64-65 anni, torna a casa, libero e bello. Bello non lo so, ma libero sicuramente. Riduzione dei parlamentari se ne discute oggi, ci sono un sacco di commenti sui giornali, si va da Pane Bianco che dice che fanno parte della cultura antiparlamentare del Movimento 5 Stelle, ma soprattutto PD e Forza Italia non hanno la cultura per abdicare, per votare conto, tant'è che anche l'opposizione probabilmente voterà a favore della riduzione dei parlamentari. Folli dice il problema di questa riforma, lo dice lui come tanti altri, di questa riforma elettorale è che a questa non segue una riforma anche del sistema di governo del Paese. Stessa cosa che dice Canet sul Quotidiano Nazionale, insomma, gli analisti sono molto critici rispetto a questa riforma elettorale, la cosa parlamentare, costituzionale, la cosa interessante è che saremo il Paese in Europa che avrà il numero maggiore di cittadini per singolo parlamentare, cioè oggi ci saranno, con la riforma, cioè se togliamo questi 345 parlamentari, avremo 151.000 cittadini che eleggono un deputato, la cosa è buona, è sbagliata, a me interessa relativamente, però non vendetela come un risparmio, perché come spiegano tutti quanti il giorno di oggi, la Camera e il Senato continueranno a costare un botto di soldi, anche se ci risparmiamo i soldi e gli stipendi dei parlamentari, anche perché la voce più importante di spesa della Camera, mi sembra 285 milioni di euro, sono le pensioni ai dipendenti, e voi penserete che avremo meno dipendenti alla Camera e al Senato, ma comunque questa cultura antiparlamentare a me va bene pure, ma se poi dopo si governa un Paese, se poi abbiamo un Paese come quello di oggi in cui Conte è traballato tra l'uno e l'altro e i neuroni dell'uno e dell'altro possono giudicare e anche gli ormoni il futuro di un governo, beh, insomma, il vertice centrodestra, l'ultima cosa che vi segnalo, ieri a Milano pare che siano uniti nel votare la riduzione dei parlamentari, bella unità, e soprattutto alle elezioni regionali, il centrodestra torna unito, sostiene il giornale, in ultimo vi segnalo Franco Prodi, grandissimo fratello di Romano Prodi, che dice sui cambiamenti climatici regna un conformismo senza basi scientifiche, essendo aria di regime, questo lo dice Franco Prodi sulla verità e vi consiglio tutti di leggerlo, soprattutto quelli che pensano che questi anti-Greta siano soltanto dei cialtroni negazionisti, leggere Franco Prodi per ricredersi. A questa sera, appuntamento e prima serata a Quarta Repubblica, non mancate il naufragio drammatico di Lampedusa e non solo. Ciao. Ciao.